Sono le 14.40 del 8 maggio 2017, 14.40 e qua è diventato buio, sta dentro è buio, sta grandinendo, si sentiva come un motore arrivare, sembrava un camioncino, il camion è più grosso, invece nel temporale sta con la granina, la batteria mi si rasciando, sta dimenticando di ricaricare, guarda, facciamo un po' sta roba qua con inquadratura. Poveri pianti, agricoli. E' di risa little tempo, vabbè. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti